Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria e torniamo a parlare di libri con un libro molto 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 importante che riguarda la storia del nostro paese sotto i bombardamenti alleati dal 1940 al 1945. Parliamo di Obiettivo Italia di Giorgio Bonacina, i bombardamenti aerei delle città italiane dal 1940 al 1945. Allora, sia ben chiara una cosa, a chi parla dei bombardamenti alleati delle città italiane come crimine, come brutale atto di guerra eccetera eccetera, dico semplicemente una cosa. Allora, gli alleati a Mussolini non gliel'aveva ordinato il dottore di dichiarare guerra a Francia e Inghilterra prima, Unione Sovietica e Stati Uniti poi non gliel'aveva mica ordinato il dottore. No, 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 no. Dichiari guerra, ne paghi le conseguenze. Stop. La guerra non ce l'hanno dichiarata gli inglesi, ma gli inglesi e gli americani la guerra aerea sui cieli italiani l'hanno portata sul serio. La regia aeronautica, nonostante le bellicose dichiarazioni di Pricolo che si dichiarava pronto a seminare morte e distruzione alla qualunque pur che sia, si rivelarono essere solo fanfaronate. Perché nonostante le teorie del potere aereo fossero nate in Italia, create dal generale Giulio Dué, l'Italia non fu mai in grado di applicare le spietate, terribili, feroci e pesanti idee del generale Dué. Le teorie duettiane furono portate alla perfezione da inglesi e americani. Stop. Gli italiani non potevano fisicamente riuscirci, i tedeschi ci provarono, i giapponesi ci pensate manco, detta com'è, e i russi avevano anche loro fondato la loro aviazione solo ed esclusivamente sull'appoggio all'esercito, ma ne parleremo in seguito. Giorgio Bonacina in questo libro ci racconta la storia della guerra aerea sui cieli italiani. Una storia fatta di dolore, una storia fatta di morte, una storia fatta di distruzione. La follia della guerra che arriva nel nostro paese, un paese impreparato, un paese non in grado di affrontare la violenza e la brutalità della guerra aerea. Eh, sì signori, perché in questo libro si racconta come il bomber command inglese, le forze aeree americane e l'aviazione tattica, sempre alleata, attaccarono le città italiane. Ci scrive Bonacina nella sua introduzione, che vi leggo, allora. La sera dell'11 giugno 1940, quando da nemmeno 24 ore era in atto lo stato di guerra tra l'Italia e la Gran Bretagna, 36 bombardieri della Royal Air Force presero quota sulle isole normanne e subito puntarono verso sud. Torino e Genova erano i loro obiettivi. Fu quella la prima incursione aerea a cui fu sottoposta l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e, sebbene quasi innocua, non più di dodici apparecchi giunsero a destinazione, scosse bruscamente gli italiani dal loro trantran quotidiano, poco conforme, per fortuna, al clima militaresco astrettamente imposto dal regime fascista. Se da noi la guerra alle democrazie era poco sentita, infatti, ancor meno ci si aspettava di trovarcisi immersi fin dal primo giorno. Invece fu così. La guerra non si sarebbe combattuta solo fra soldati al fronte, ma avrebbe mostrato il suo volto anche ai civili, alle donne, ai vecchi, ai bambini. Gli inglesi ce lo fecero capire subito, a scanso di equivoci. Poi vennero gli americani e non dimostrarono affatto il contrario. Milioni di italiani, dalle Alpi alla Sicilia, vissero la terribile avventura e videro le loro città sfasciarsi, quartiere per quartiere, negli uragani di ferro e di fuoco. Tutto ora, dopo un quarto di secolo, perché il libro è stato scritto nel 1970, milioni di scampati al diluvio di bombe si chiedono perché questo accadde. Erano necessari per gli alleati i bombardamenti? Cosa vogliero distruggere nelle città? Se le città erano importanti per i loro obiettivi industriali e militari, come mai le bombe così spesso caddero sulle case, le scuole, gli ospedali, le chiese, le opere d'arte? Oppure l'offensiva dall'area fu solo un odioso mezzo di coercizione terroristica, avente lo scopo di minare il morale delle popolazioni e di spingerle a gesti disperati per abbreviare la guerra? Se fu così, chi furono i responsabili? In questo libro, ci dice Bonacina, ho cercato, cominciando dagli antefatti della prima guerra mondiale, di dire il perché dei bombardamenti aerei e anche di precisare il come. È una storia di uomini e di aeroplani, ma soprattutto di motivi e di metodi. Nella speranza vana e illusoria temo che in futuro nessuno storico abbia a scrivere un libro come questo. La storia dei dei bombardamenti alleati sul suolo italiano. I mezzi, gli uomini, le incursioni, le date, la storia della guerra dal cielo portata sulle città italiane. Una guerra durissima, una guerra spietata, una guerra a cui non eravamo assolutamente preparati perché, ripeto, in tre anni di guerra, dal 40 al 43 la caccia notturna italiana abbatté nove aerei, nove, nove, e le difese contraerei delle nostre città erano talmente scarse che gli equipaggi del bomber command, quando andavano a bombardare le città del nord Italia, Roma, Milano, Genova, eccetera, 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 lo sapete che al posto della bombetta, della bomba dipinta sotto l'abitacolo a simboleggiare l'incursione effettuata ci dipingevano un cono gelato? Perché? Perché le difese italiane erano risibili, ridicole, quasi inesistenti. Tenete presente una cosa, si parla degli stessi uomini, faccio due nomi su tutti, più famosi su tutti, Guy Gibson e Geoffrey Leonard Cishire, uomini che definivano furibondo, pesantissimo, pressoché impenetrabile il muro della Flak, il muro della contraerea, sulla Ruhr o sulle città tedesche, e definivano invece risibile e pressoché inesistente il fuoco antiaereo e soprattutto la caccia notturna sulle città italiane. Insomma, credo che ci sia poco da dire. Le spiegazioni della filosofia del bombardamento strategico, le radici della filosofia del bombardamento strategico che sono italiane, sono di due. Le tragedie, le stragi, la morte e la distruzione che pioveva dal cielo ad opera dei bombardieri britannici e statunitensi. Un libro risalente al 1970 da recuperare a tutti i costi, da leggere con molta attenzione, da contestualizzare nel periodo in cui è stato scritto, perché nel 1970, quando Giorgio Bonacina pubblicò per la prima volta questo libro, molte cose su tutte ultra non erano conosciute, molti documenti d'archivio, compresi quelli su Dresda, non erano ancora disponibili e quindi Bonacina, nonostante l'eccezionale cura di questo lavoro, nonostante la stesura accurata con una precisione, oserei dire, inappuntabile e certosina, certe cose non le sapeva, perché molti documenti sono stati desecretati e resi disponibili dopo la pubblicazione di questo libro, che vi consiglio caldamente, ripeto caldamente, di leggere per capire la guerra aerea sui cieli italiani, per comprendere appieno il perché dei bombardamenti, come reagiva la popolazione, cosa accadde all'Italia in quei terrificanti, spaventosi e violentissimi cinque anni di guerra, ok? Obiettivo Italia, i bombardamenti aerei delle città italiane dal 1940 al 1945, un libro da leggere, assolutamente a tutti i costi, chiaro? Quindi, cari signori, Obiettivo Italia, di Giorgio Bonacina, editore Mursia, costa soltanto 21 euro, fatelo vostro, leggetelo, perché si tratta di una, come dire, ricostruzione precisa, puntuale, inappuntabile dei fatti. Molte cose, molte cose, alcune cose sono state superate da quello che si è imparato in seguito, ma l'impianto di questo libro rimane assolutamente valido, rimane decisamente poco contestabile, perché Bonacina ha fatto realmente un lavoro coi controcazzi, chiaro? Quindi, cari signori, ripeto, procuratevi questo libro e leggetelo con molta attenzione, commentate questo video per aggiungere le vostre idee e le vostre opinioni, io sono qua apposta, e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ancora, ciao!